Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Moruso e alla dottoressa Tarsitano che mi hanno chiesto di partecipare. Quest'oggi abbiamo sentito moltissimo parlare di HACCP, di igiene e sicurezza degli alimenti. Certo è che gli alimenti da soli non viaggiano, viaggiano sempre avvolti da qualcosa, contenuti da qualche parte, vengono lavorati su supporti particolari con attrezzature particolari. Ecco che parliamo anche di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, sui quali il legislatore comunitario in questi ultimi anni ha fatto molto. Ha fatto molto ma molto non è ancora applicato dalle aziende e molto poco è conosciuto dalle aziende medio piccole. Ora una breve panoramica per dire che quando noi parliamo genericamente di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti non intendiamo soltanto gli imballaggi, cioè quello che avvolge direttamente l'alimento e che lo protegge, ma parliamo di tantissime cose. Se pensiamo agli utensili, alle posate, alle pentole, ai rulli, alle macchine, alle attrezzature, tutto va a contatto con l'alimento. Quindi è un errore non considerare quello che può derivare da questo tipo di contatto. Abbiamo una pluralità di oggetti che entrano a contatto con gli alimenti e una enorme pluralità anche di materiali. Se pensiamo alle plastiche, al vetro, al legno, pensiamo alle ceramiche, all'alluminio, alla banda stagnata. Sono tipologie di materiali di cui chiedo, siamo tutti a conoscenza come sono composti, che problematiche possono trasferire all'alimento, qual è il livello di conoscenza che chi fa consulenza in azienda e la stessa azienda possiede rispetto a queste tipologie di pericoli. Pericoli che possiamo considerare già emersi, nel senso che se guardiamo ai dati derivanti dalle notifiche del 2012, ci accorgiamo che moltissimi problemi derivano dai materiali a contatto con gli alimenti. E fra le problematiche principali individuiamo quella della migrazione, quindi l'accessione di componenti dal materiale o l'oggetto a contatto con gli alimenti verso l'alimento. Poi troviamo presenza di corpi estranei che possono derivare dal materiale a contatto, che ne so, degli sfridi di produzione del film plastico che magari vanno dentro all'alimento. Ecco che questo può costituire un pericolo. L'altro aspetto che qui sottolineo è il fatto che molte delle notifiche che sono state fatte derivano da prodotti che provengono dalla Cina. Ora, così come esiste il sistema di allerta nei prodotti di origine alimentare, esiste lo stesso sistema di allerta anche in relazione ai materiali e agli oggetti a contatto con gli alimenti. E questo è uno degli innumerevoli parallelismi che possiamo trovare confrontando la normativa specifica per il food rispetto alla normativa specifica per i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti. E quali sono le problematiche principali che sono state riscontrate a livello di notifiche? Vediamo qui formaldeide, cromo, vediamo nickel, vediamo amine aromatiche. Ce n'è un po' per tutti i gusti. E non è detto, qui dirò una cosa magari impopolare, che il biologo abbia tutte queste competenze o abbia la competenza necessaria e sufficiente per entrare nel merito di questi argomenti. Anzi, è un problema il fatto che nell'impresa alimentare, e io vi porto il mio personalissimo punto di vista, che però ha un po' di anni che lavoro nel settore per cui penso di poter dire una cosa dimostrabile, difficilmente nelle aziende medio-piccole c'è la competenza necessaria per affrontare questo tipo di argomenti. E se noi andiamo a guardare anche i piani HACCP delle aziende, raramente individuiamo o troviamo che il pericolo legato al materiale a contatto con gli alimenti è stato considerato nell'HACCP. Sono ancora mondi paralleli, mondi molto distanti a livello conoscitivo, ma anche a livello di dialogo, di confronto, di comunicazione. Il mondo del packaging è un mondo molto più vicino al metalmeccanico, passatemi il confronto rispetto all'alimentare, e questa è un'enorme difficoltà da superare in termini, ripeto, di competenze, ma anche in termini di comunicazione, linguaggi diversi, approcci diversi all'argomento, e sono tutte barriere che pian piano bisogna affrontare. E in questo senso il consulente dell'azienda può apportare un contributo importante per avvicinare questi due mondi. Ricordo che con riferimento in particolare ai prodotti importati, il legislatore comunitario si è accorto del problema e ha emanato due regolamenti. Il regolamento 284 della Commissione datato 2011, che definisce delle regole particolari per determinate tipologie di prodotti in funzione della loro provenienza, e il regolamento 10 del 2011, che invece è un regolamento specifico per le materie plastiche destinate a venire a contatto con gli alimenti. Qual è il primo importante parallelismo che possiamo individuare fra alimenti e materiali e oggetti a contatto con gli alimenti? Non è cosa recente, è datata ancora 2000-2001 col libro bianco il fatto che la sicurezza alimentare riguarda tutta quanta la filiera e i materiali a contatto con gli alimenti fanno parte della filiera ed è il legislatore stesso che più di 13 anni fa, oramai, ha detto che ai materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti debbano essere applicati esattamente gli stessi principi che vengono normalmente applicati agli alimenti. Ecco che pian piano cominciamo a vedere quelli che sono questi parallelismi. Con il regolamento 1935 il legislatore dice che i materiali debbono essere prodotti in modo conforme a quelle che si definiscono buone pratiche di fabbricazione e queste buone pratiche di fabbricazione devono essere tali da garantire l'emissione in commercio di un prodotto che abbia determinate caratteristiche. Prima fra tutti questo prodotto non deve costituire un pericolo per la salute umana, quindi non deve fare male, non deve comportare una modifica inaccettabile all'alimento che contiene e questa modifica inaccettabile è riferita sia a parametri chimici, a parametri fisici ma anche a parametri sensoriali e lo troviamo poi col fatto che dice che non debba nemmeno comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche del prodotto che va a contenere. Vediamo che il primo parallelismo è che così come nell'alimento, nel settore alimentare è fatto obbligo di applicare delle buone pratiche di lavorazione a partire dalla produzione primaria, anche nel caso di chi produce materiali e oggetti a contatto con gli alimenti vige esattamente lo stesso obbligo. Un'altra analogia è legata alla rintracciabilità, così come con il regolamento 178 è stato istituito l'obbligo orizzontale a tutti i prodotti alimentari di garantire la tracciabilità, allo stesso modo col 1935 è fatto obbligo di garantire la rintracciabilità anche nel caso di chi produce materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Mi permetto una piccola digressione sul concetto di rintracciabilità previsto dal legislatore. Il legislatore vive la rintracciabilità con una funzione chiara, ha una finalità sanitaria, cioè se c'è un problema deve essere in grado di risalire la filiera per individuare quelle che sono le cause del problema che si è verificato. Ecco che obbliga a tracciare il prodotto in ingresso in un'impresa alimentare e chi l'ha fornito e il prodotto in uscita da questa impresa alimentare e a chi è stato fornito questo prodotto. Il legislatore quindi non vive la rintracciabilità come uno strumento di comunicazione e marketing legato ad esempio all'origine o ad altri argomenti e questa è una differenza fondamentale da capire perché altrimenti si fa confusione e nell'ottica della rintracciabilità con questa finalità specifica è fondamentale per ogni azienda definire il proprio livello di rischio perché la rintracciabilità è un bilanciamento fra costi e benefici. Cioè se io sono un'azienda che produce olio e metto tutto l'olio prodotto in una stagione in un unico tank, poco mi interessa tracciare la singola lavorazione, la lavorazione partitaria o massale, va tutto a finire lì dentro. Per cui se c'è un problema c'è l'olio lì dentro e devo bloccare tutto quel tank. Diverso è il caso in cui l'olio proveniente da diversi agricoltori lo stocco in sili diversi. Allora il livello di precisione della mia rintracciabilità e quindi i costi che devo mettere in pista per gestire questa rintracciabilità sono profondamente diversi. Chiedo scusa ma altrimenti facciamo confusione su tutta una serie di termini. così come nel settore alimentare alcune imprese hanno l'obbligo di applicare l'HACCP e un sistema di gestione dell'HACCP anche nel settore dei materiali e degli oggetti a contatto con gli alimenti è fatto obbligo di implementare un sistema documentato di assicurazione qualità. Perché un sistema documentato? Perché in caso di controllo l'autorità pubblica deve poter trovare i documenti a supporto delle dichiarazioni di conformità che vengono fatti su questi prodotti. E quindi viene mantenuta alta l'attenzione su quelle che sono le buone pratiche di lavorazione ancora una volta. Perché nel settore MOCA non è obbligatorio applicare l'HACCP così come è obbligatorio nel settore della trasformazione degli alimenti ma è fatto obbligo applicare un sistema di assicurazione qualità. Tutto deve essere documentato quindi reso disponibile in caso di controllo all'autorità pubblica e così come diceva la dottoressa Moruso prima in caso di controllo da parte anche delle catene distributive o dei clienti. Perché alcune catene distributive ad esempio Copitalia per fare un nome su tutti hanno definito delle linee guida particolari da applicare da parte dei fornitori di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti in modo particolare packaging in questo caso. Ma anche alcune imprese hanno chiesto, esempio Barilla, hanno chiesto ai loro fornitori di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti di dimostrare la conformità legislativa rispetto a quanto viene immesso in commercio. Di conseguenza quali sono gli obblighi minimi di legge? Assicurazione qualità, un sistema di controllo della qualità e un sistema documentato in grado di dare dimostrazione di conformità. Attenzione però che il regolamento 2023 è cambiato più recentemente e si applica adesso anche ai processi di riciclo, quindi ai prodotti ottenuti da materiali di riciclo e estende alcuni obblighi. Ovvero il sistema di assicurazione della qualità deve essere in grado di dimostrare la conformità ai requisiti dell'autorizzazione. Se io sono uno scatolificio e produco scatole da scarpe, non ho questi obblighi, ma se io sono uno scatolificio che produce scatole dove devono essere contenuti degli alimenti, allora l'autorizzazione deve coprire questa componente del mio processo produttivo. Gli alimenti devono essere documentati di sistema, deve esserci un manuale della qualità, quindi ci deve essere la formalizzazione delle procedure. Non devono essere solo procedure verbali conosciute all'interno della struttura. Ci devono essere piani di controllo della qualità con un monitoraggio dei parametri ritenuti critici e tutte le procedure di gestione, le procedure operative, le qualifiche, le ispezioni, i criteri di qualifica dei fornitori devono essere documentati. Non sono cose da poco, perché dire questo ad aziende medio-piccole del settore dei materiali di imballaggio è come farli cadere alla velocità della luce dal quinto piano verso terra, insomma. Sono concetti complessi da trasferire. Devono esserci i sistemi di controllo documentati, documentati anche i protocolli analitici. Poi magari credo che Accredia dirà qualcosa su questo aspetto. Come si fanno le analisi? Con che metodi? Con che incertezze di misura? Se il metodo è accreditato o non è accreditato? Sono elementi che bisogna trasferire anche all'industria che produce materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Poi ne consegue che l'industria alimentare deve essere in grado di capire questi rapporti di analisi e questo è un di cui non indifferente dello stesso problema. Perché magari arrivano all'industria le dichiarazioni di conformità che sono obbligatorie, ma l'industria alimentare non le sa leggere. Quindi si accontenta che ci siano, le mette in un cassetto e con questo pensa di aver ottemperato all'obbligo di legge. Non entra nel merito dei contenuti, di che cosa è stato analizzato, della destinazione d'uso di quel prodotto. Perché un conto è che un film plastico o un cartone vada a contatto con un prodotto secco, altro che vada a contatto con un prodotto grasso. Per cui anche come vengono fatte queste benedette prove di migrazione è un aspetto che l'industria dovrebbe quantomeno cominciare a conoscere. Cosa significa tutto questo? Significa che legislazato con questi nuovi regolamenti indubbiamente c'è una maggiore responsabilità delle imprese. L'impresa alimentare non può più dire oddio è un aspetto di cui ignoravo l'esistenza. Perché ormai ci sono le allerte, ci sono dei pericoli che sono stati individuati, ci sono una serie di cose che impediscono di poter dire ignoravo che ci fosse il problema. Dall'altra parte l'industria che produce materiali e oggetti a contatto con gli alimenti deve cominciare a dialogare e a fornire una serie di informazioni all'industria alimentare. Informazioni che magari non le fa molto piacere fornire. C'è l'obbligo di garantire un risultato a fronte di che cosa? A fronte di obblighi di legge. E un aspetto importante che mi aspetterei che venisse sottolineato è, ma se ci sono i regolamenti comunitari, perché stiamo parlando di procedure, di certificazioni e poi vedremo anche nella mia relazione? Perché i regolamenti comunitari per loro natura definiscono quelli che sono obblighi di risultato? Cioè l'obbligo qual è? È quello di garantire l'emissione in commercio di un prodotto sicuro. Come farlo? È affare dell'impresa, è responsabilità dell'azienda definire le proprie procedure, le proprie modalità, in base a tante valutazioni, in base al proprio processo produttivo, in base al proprio livello di conoscenza, in base anche all'analisi rapporto costi-benefici. Non dimentichiamolo perché è un aspetto importante. Cosa significa questo? Significa che entrambe le parti, industria alimentare e mondo MOCA, devono cominciare a dialogare e a confrontarsi. Banalmente significa che il commerciale dell'industria alimentare non può più andare sul libero mercato e dire mi serve un po' di PVC perché ci devo confezionare cosa, non si sa bene. Deve dire che cosa vuole confezionare e a quali processi produttivi poi quel film plastico deve essere assoggettato. Vi faccio un esempio capitato a me personalmente. Industria che produce prosciutti. Il prosciutto viene pastorizzato, contenuto nel film plastico. Adesso lasciamo stare di che cosa sia. Questo aveva comprato a libero prezzo sul mercato, il film plastico si sfalda completamente. Un altro invece, sempre prosciuttificio, che aveva comprato un film molto robusto, molto resistente, troppo resistente, che gli costava un occhio della testa per avere un risultato comunque buono per carità del cielo, ma si poteva fare spendendo un pochino di meno. Ecco cosa significa. Significa che io devo chiedere al mio fornitore un prodotto, ma dandogli le specifiche della destinazione d'uso di questo prodotto. Lo voglio pastorizzare, lo voglio usare tal quale. Ci va dentro un prodotto secco o ci va dentro un prodotto grasso? Tutti questi aspetti devono essere noti al fornitore. Viceversa, il fornitore deve dare una dichiarazione di conformità coerente con quella destinazione d'uso del prodotto. Questo significa quindi cominciare a relazionarsi anche in modo diverso e a superare quei problemi di dialogo, di comprensione che vi dicevo prima. E l'altro aspetto è anche che pian piano si sta potenziando lo strumento della certificazione anche nei confronti di chi produce materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Questo perché? Perché è chiaro, perché l'impresa alimentare fa fatica a controllare i suoi fornitori di packaging, ad esempio. Allora uno degli strumenti che ha a disposizione per qualificarli è chiedere loro di certificarsi a fronte di uno o l'altro standard applicabile con lo scopo previsto, standard che parlano di sicurezza alimentare. È un modo per avere garanzie, non è l'unico ma è uno dei tanti che ci sono a disposizione. E quindi ecco che entrano in gioco le norme volontarie. E uno dice ma che cosa sono queste norme volontarie? Ci sono i regolamenti, pure le norme volontarie ci sono. Le norme volontarie sono quei documenti che in realtà danno delle risposte sul come implementare un sistema di assicurazione qualità conforme alle disposizioni di legge. E le norme volontarie sono strumenti consensuali, quindi condivisi da comitati trasparenti volte a dare garanzia rispetto alle tematiche di, in questo caso, sicurezza igienico-sanitaria del packaging che viene utilizzato o dell'oggetto che va a contatto con l'alimento. E ci sono diverse tipologie di norme volontarie. Non sono tutte uguali, io non vi voglio tediare con l'elenco infinito di norme a disposizione, ma almeno sapere che ci sono norme di gestione che normalmente sono business to business, quindi non sono oggetto di comunicazione al consumatore, ma sono finalizzate ad agevolare gli scambi di merce, quindi io fornitore ti do garanzie come cliente, a te che sei il mio cliente. Poi ci sono invece delle norme di prodotto o di servizio che spesso, ma non sempre, possono essere comunicate al consumatore e che quindi si dividono in norme business to consumer, quando possono essere comunicate al consumatore attraverso l'etichetta, e business to business quando invece non sono oggetto di comunicazione in etichetta. Perché vi dico oggetto di comunicazione in etichetta? Perché la certificazione può essere utilizzata anche come strumento di marketing e comunicazione, non verso un cliente, bensì verso un consumatore. E in questo caso, quando vi vedete nell'etichetta no GM, piuttosto che da produzione integrata, quello diventa un modo di comunicare al consumatore attraverso l'avvallo di un ente terzo. Che differenza c'è sostanzialmente fra le norme di prodotto e le norme di sistema? Le norme di prodotto utilizzano un approccio che vede la verifica del processo produttivo relativo a quello specifico prodotto come l'elemento fondamentale per dare garanzie rispetto a quel prodotto. Cioè un'azienda può decidere di certificare tutte le sue produzioni, ma anche una specifica linea di produzione. E nell'ambito dei materiali e degli oggetti a contatto con gli alimenti ci sono diverse norme che possiamo applicare. BRC-IOP, AIB, FEFCO, la UNI 15593 e la 22005 già citata in precedenza. Dottorissa, 5 minuti. Certo. BRC-IOP è l'equivalente di BRC-Food solo che si applica nel settore dei materiali e degli oggetti a contatto con gli alimenti. AIB è uno standard non certificabile, uno standard americano che è un'ottima, dal mio punto di vista, linea guida per l'industria dei materiali e degli oggetti a contatto con gli alimenti anche perché permette di dare un punteggio all'azienda e quindi in termini di strumenti di autovalutazione è quello secondo me più utile in questo momento. FEFCO invece è uno standard sempre privato che si applica a cartone teso e cartone ondulato e ha la prerogativa rispetto a qualsiasi altro standard di dire chiaramente che non ci sono punti critici nel processo produttivo di cartoncino teso e ondulato. Questa è una norma importante, la UNI 15593, perché si applica al packaging e a tutto il mondo dei materiali e degli oggetti a contatto con gli alimenti. È una norma che, come dice il prefisso UNI, vale a livello nazionale perché è stata prodotta dall'UNI quale ente normatore e si articola in diversi punti. È molto sviluppata sia dal punto di vista dei sistemi di gestione sia dal punto di vista degli aspetti specifici di prodotto. Nell'ambito dei modelli gestionali invece qual è la caratteristica principale? È che la bontà di un prodotto non è legata solo al suo processo produttivo ma a tutto il sistema di gestione aziendale che ci sta dietro. Vi faccio un esempio. Se io faccio un ottimo prodotto ma poi ho il mio ufficio vendite o la mia logistica che è pessima, consegnerò sempre in ritardo e rischierò pure di consegnare male. Quindi è tutto il contorno, tutto ciò che sta intorno al processo produttivo che mi aiuta a dare garanzia di conformità del prodotto e anche del servizio. Vi aggiungo, visto il tempo, solo due parole su questa norma. L'FSSC 22.000 che mette insieme due norme. La norma ISO 22.000 che vi ha già citato prima la dottoressa Moruso e la PAS 22.000 che invece è uno standard inglese legale che si applica specificamente al packaging. E ha il vantaggio, questa norma, di utilizzare lo stesso linguaggio che è usato normalmente nel food e quindi aiuta la comunicazione fra le aziende. Difficile scegliere rispetto al panorama delle molteplici certificazioni. Io qui vi ho portato un quadro sinottico che mette in correlazione i requisiti di legge e le varie norme. Se andate sul sito di csqa www.csqa.it vi scaricate il quaderno specifico sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti e vedete quale fra queste norme rispecchia di più le esigenze dell'azienda. Dico solo una parola su questo aspetto. Nel senso che quando noi siamo abituati a parlare in sigle norma di qua, norma di là l'azienda si trova in grossa difficoltà nella scelta e anche nella comprensione. Allora prima di scegliere una norma spendeteci se potete qualche minuto in più con l'azienda, col titolare dell'azienda per inquadrare i suoi bisogni. Perché se vuole vendere in Italia la norma 1.1.5.5.9.3 va benissimo. Se vuole vendere all'estero no, perché allora gli servirà di più un BRC IOP. La scelta non deve essere avventata. Me l'ha chiesto tizio faccio sta norma. Perché deve essere capita, metabolizzata, se vogliamo arrivare a un risultato decente in azienda. Diversamente facciamo carta, carta che vale quel giorno, che poi viene dimenticata, messa in un cassetto e non serve a nessuno. Non serve a voi che fate la consulenza e non serve a noi che facciamo la verifica. Volevo dirvi altre cose sulle tematiche della sostenibilità, ma a questo punto ve le trovate sulle slide. Voglio solo chiudere con un aspetto, che è questo. Oggi sembra che norme volontarie e obblighi di legge viaggino su binari paralleli. Io vi dico che così non è, perché i concetti della certificazione volontaria sono ormai stati capiti anche dall'autorità pubblica, che sta utilizzando le medesime metodologie di verifica. Prova ne è che l'autorità pubblica può fare l'attività ispettiva, quindi sanzionatoria, e l'attività di audit, così come la fa l'organismo di certificazione. Ma ancora di più, col decreto semplificazioni dello scorso anno, c'è un avvicinamento forte fra la certificazione volontaria e il riconoscimento che questa ne può avere da parte dell'autorità pubblica, quantomeno in termini di valutazione del rischio. Cosa significa? Che se un'azienda è pluricertificata su tematiche di igiene e sicurezza alimentare, l'autorità pubblica ne dovrebbe tener conto e quindi non andare a verificare ancora questa azienda, ma andare magari a scegliere un campione su aziende che magari non sono già certificate. Esistono già delle prove in questo senso, con la certificazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende possono beneficiare di sgravi fiscali nell'ambito dell'INAIL. Chiudo perché ho sforato e vi ringrazio dell'attenzione. Chiudo perché ho sforato e vi ringrazio dell'INAIL.